Siamo in difesa, quella che piacere ci fa schifo Ciao lei? No, no, lascio leggere Diciamo che in difesa vanno tutte bene Ciao Max, bene te? No, 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 no C'è un giro di attacco, ha trovato una bomba Lui che mi aiuta a difendere No, però aspetta, chi è che è lì? C'è un cristottini Sicchio era random Eh, mince, mi ha distrutto gli alibi Che certainly Mi ha messo i legion 2 non c'è una nuova ok ok non c'è uno Ma avevo ancora rampelato fuori Sempre finestra grande? Si 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 K9 e finestra grande Due fuori K9 Uno libreria Sì Sto da peccato 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 Ma che cazzo ci fai? Iana ancora lì sotto I matrum Mi hanno chiuso la libreria Allora, libreria Eh, libreria Sto da peccato Ops Piano 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 Sto da peccato Sto da peccato Entra piano Uno fuori K9 Sto da peccato La tua posizione è stata compromessa Entrato Scythe Sto da peccato Uno è entrato Scythe Uno è in libreria L'altro è ancora in library Io ho libreria Ricarico l'arma Ti sta tornando dietro Solarium Solarium Dietro Solarium Eh, che quello, cazzo Ligione Vai giocare di nuovo È random Puscia, eh sulla porta Pintato quello inside È inside No, raga La cam Che cazzo pingate di rosso No, ho pingato con quell'anti proiettile io Ah, eh, si è girato sull'altro E' nell'alfa. Ok. Buono, bravo. Mamma mia, tu! Eh, 4 kill, è proprio lui! Ogni tanto si sveglia, fa un round bello, poi ritorni a dormire. Mamma mia, non mi ricordo a fare dei convinti quando decidi perché vengo. A casa tua, chiaramente. Ma, questo qua, a questo punto stavamo 3 a 2 per noi. Inizia a full cittare. E allora, eravamo 4 a 4. Questo si era preso a male. Prende il bacio per poi venire da sotto. Non è riuscito a fare una kill, regà, e il nostro Jager è sceso. L'ha flencato e l'è riuscito a uccidere. Quella era di stramma, guarda. Non penso che esistino i cheater in questo gioco, quindi mi disse. E che stai? Comunque, no, beh. Poi, una volta ero nella vecchia di Tacoma a chillare. Eeeeh... Stattiamo stranked. Abbiamo contro uno di quelli con range, quindi che corrono e sparano. E abbiamo vinto 4 a 1. Finca, così schifo faccio. Guarda, il fatto è che quando dico che contro di loro va preso una modda è perché va preso una modda. Infatti lo uccidono una modda. Dai, chill, 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 chill. Stanno dronando Pinguro. Magari, sei fatto due sti buchi qua? Mi ha strascale main. Sì. Sai, nobile, a te sto sopra e ti sei bucato. Dentro del bar. E' entrato sto lino? No, non è un vero modo. Aspetta. C'ho la camera, c'ho la camera. Non qui c'ha. Mi sa che c'è uno fuori blu, eh? Fuori blu stesso. Non penso. Ragazzi, ragazzi, chill. No, 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 fermo lì c'è. Nella... Aspettate. Nel wall, quello in A, hanno fatto Maverick che ha fatto una linea. Ok. Da me c'è uno in blu. C'è... Oh no, ma... Cambio caricatore! Uno che mi guarda scala in blu. E' entrato uno. E' entrato. Morti due, morti due, morti due. Iano da me, Iano da me è blu. Era blu. E' ancora sopra. E' ancora sopra. Un HP. C'è uno. Ale mi innetta. Sì, mi spara, mi... Prefire. Jager, sali. Fagli il giro. L'ultimo nemico rematto. E' sempre sopra, Iano. Sopra? Era... Si, era in blu. Era quella blu. Non lo vedo dalla scala di blu. Eh, se n'è andato, mi fai. E' sempre in blu, è sempre in blu. Bravo. Vedi? Vedi? Vedi che sto tornando? Bravo. Trovano HP. Eh, infatti quando mi ha detto che avevano HP, ho detto, ma si, anche consente colpi. Sono poveri imbambiti. No, hanno busciato di merda in vini, ragazzi. Allora, io ne metto due qua, che questi buscano a cazzo. Uniball. Allora, due Capcan insight ve lo metto, roba. E altri, invece, bloca. Il muro di carico, copritemi. Allora, via. Allora, se questo busco. Non lo fate, non lo fate. No, la faccio. Rompi? Non lo so, 10 secondi. Rompete. Io non posso. Vieni qua, vieni qua Dick. Aiutami qua a rinforzare. Rinforzare sta mur. Sì, non si dice di protezione qua. Il muro è rinforzato! Poi prendendo protezione. In due. Io non posso. C'è Froth, fatta la fada per lo stesso. Froth, non mi prende protezione qui. Sì, si, 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 si. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. Ah, ma anche Asha è main, ragà. Entrato. Asha è qui dal ping. Ha rotto la gamma. Ma, vaffanculo è chiù sotto. Ma davo il bengato, no? No, 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 era sotto. No, 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 era sotto. È cresciuto qua. Riusci a aspettarmi da qui. Va a far perdere tempo. Ti dico se ti sale scale solar, eh? Mhm. La squadra d'attacco disarva una bomba. Bug sale. È sulla scala è crociato adesso. È solar? Sì. È salito. Ping 2, ping 2. Crociato, ping 2. Arriva a porta master. Ping 2. È fermo, ping 2. Ping a porta master, ping 2. È in master. È in master, non lo vedo. modello sulla scala, non lo vedo. coldidée. Quess. Ho Covered con cosa fide. Gio-5. Ounque l'altro random sta in saurito Uno mi sticca il drone, uno mi sticca il drone Vai, vai, vai Vai, vai, muovete Vai, vai Quali tu vorrei? Sì, qua sul ping, sono due, sono due Uno car garage, l'altro vieni dentro Devi recuperare il disinnescatore Ma chi sono? Non lo so Putini dalla finestra No, non vedo più niente, devo lasciarlo dopo tempo Non ce l'ho più Eh ragazzi, il defutor lì Eh ma ha sponchilato dalla finestra Però è meglio non C'è uno sdragato sul ping Uno che scende da... Sdragato sul ping, te lo puoi volentare Ping Che sfuga È pulso È pulso È pulso Hanno pure DOC, ti è curato Ho detto la cam Non c'è uno Sdragato il hit È bene il debuter Io quando scendo Io quando scendo Lo sbucca dalla finestra No, però là Putin è quello che ho detto alleato ai signori con gli sponchiglie io non sono stato ma non devi mai passata lì frate fai la verifica però ragazzi tutti fermi io ho rotto il caid davanti stiamo dietro il caid davanti l'ho rotto perché quello volo andrà dietro quello va la carcara una trono un attimo trono e mi come aspetta buvo di brici anche davanti la stavolo che staglia ci sono ca alla volta 2 a sopra è sopra merda uno il nostro ha preso il disensatore lì lo so bradar mai mi sono rotto il cazzo io con te una morta il disinnescatore è stato recuperato ok uno boiler in fondo a destra cernoby lei mettono la gamma sopra la scale è caldo l'operatore d'attacco questo è il timing del signore gesù cristo è la seconda volta che succede che mi gira e lui esce no ma il primo ragazzo è un partito con chi l'era o altro è morto pure il brici c'è un po' che fa perché era il random qua pure noi eh cazzo lasciamo le cose al random non cazzo la porta non cazzo lì non cazzo la porta non cazzo la porta mi piace è ancora lì davanti alla finestra qualcuno corridoio oh finestra corridoio quale è da piano quattro mi sa dove ti ha fatto il bucchetti rai salì guardamelo bagno bagno c'era un altro sopra dietro vi guardo io c'è uno scale blu mi sa noccato è un drone che va verso solar io ne ho solo questi ok solar ti sta guardando dal buco del buco del buco del buco morto bravi prendi il drone in solare e portalo giù il drone a via che ci sono dei 45 secondi per ragionare e dentro e 9 perché mi serve quello che non è è in alto ah è in alto trofei trofei ha rotto il drone era su split di drop probabilmente adesso è in alto sta in carico spacca il muro quello lato destra rimangono 15 secondi ha iniziato a 2 un operatore alleato 10 secondi era sinistro mancano 5 secondi mancano 5 secondi peccato ora da perdere questa partita perchè abbiamo giocato in 4 è brutta che palla si repo veramente brutta shot pazzotti ora andavo fatta anche una kill bella in world che palla vabbè nice try nice try vieni un video te ma non è riuscito a riconnettere ah si è riuscito ci sta ci sta però la cosa strana è che è capitato solo a me e a lui fra quelli contro maio segui appara dot ruot appara da era quindi attento